C'è una domanda che gli addetti ai lavoro, i critici sono posti per anni, il blues può essere bianco, dirò di più, il blues può essere bianco e italiano? Beh, a giudicare dal signore che abbiamo qui di fianco, assolutamente sì. Signore e signori, diamo il benvenuto a Fabio Treves e la sua armonica. Ladies and gentlemen, signori e signori, boys and girls, ragazzi e ragazze, questa sera abbiamo l'onore di presentarvi il più grande bluesman italiano, il Puma di Lambrate, 40 anni di attività festeggiati in questi giorni ed ecco a voi Fabio Treves. Allora, Fabio Treves, benvenuto, intanto scusate signori che eleganza, possiamo fare poi anche un primo piano sugli stivaletti, pandan con la giacca, maglietta Chicago Blues. Potevo andare ospite di Massarini vestito sciamannato, no. Allora, raccontami un po', intanto per cominciare, 1974 si comincia con tutto questo amore che hai adesso per il blues o era una cosa che poi hai scoperto? Beh, io sono partito come tanti altri dal rock, dalle trasmissioni radiofoniche, dai primi dischi che arrivavano dall'Inghilterra e dall'America e poi dopo pian pianino ho fatto il percorso all'incontrare, un po' come è successo per i musicisti inglesi negli anni 60, fino ad arrivare al blues ho scoperto che era la musica che più mi affascinava. Perché ti piace così tanto il blues? Il blues è la musica di quelli che non si vogliono omologare, io sono un indipendente da sempre, il mio motto è chi fa da sé fa per tre versi. Il blues è la musica del riscatto sociale, il blues è la musica del sogno, della fantasia, ma soprattutto il blues è la musica di tutti i giorni, è la musica che parla di storie d'amore, di abbandoni, di fantasie, di sogni, quindi niente di meglio che ascoltare un buon brano di blues. Allora, cominciamo con la musica, tu sei partito con una tournée che noi siamo venuti a registrare, tournée quarantennale di Fabio Travis dal vivo, sentiamoci una cosa e poi continuiamo a parlare di confronto. La Fabio Travis Blues Band dal vivo, tournée del quarantennale, ma è difficile trovare dei buoni musicisti di blues in Italia? Magari trovi anche dei bravi musicisti, però tendono un po' a fare i fenomeni, guarda come sono bravo, invece nel blues è il blues è più levare che aggiunge. Esatto, esatto. Grazie a tutti. La musica, la musica nera americana, afroamericana, il blues in particolare e tutte le sue varie derivazioni, era la musica da ballo, negli anni 20, 30, 40, i juke joints, le casupole, i bar... Malfamati. Assolutamente, cioè lì si ballava e tutti i film d'epoca che lo fanno vedere mostrano, quindi non è una musica solo da ascoltare, che però è una musica che naturalmente su disco si può ascoltare. Tu quanti dischi hai fatto? Una ventina, non ho mai fatto il calcolo preciso, regolare, perché essendo un indipendente magari mi sfugge, non... Qual è il tuo best seller, se così si può dire? Allora, il mio best seller per una questione proprio affettiva si chiama Sandris Blues, perché aveva degli ospiti incredibili come Chuck Lavelle, che adesso da 15 anni è in giro permanente con i Rolling Stones, poi c'era il primo batterista dei Dire Straits, Peak Withers, poi c'era Dave Kelly, fondatore della blues band inglese, c'erano un po' di ospiti, avevi messo insieme un bel gruppetto di persone, un bel gruppetto di persone, e poi un altro con un grandissimo artista che tu conosci e apprezzerai, che se n'è andato tanti anni fa, che era Mike Bloomfield. Adesso, poi parleremo poi di Bloomfield. Quindi, ancora musica dal vivo della blues band di Fabio per questo tour del quarantennale e poi continuiamo a ragionare di blues. Quando I wake up in the morning, I hear the rooster crow, don't wanna work, but I gotta go. Don't wanna leave my baby, leave her home alone, cause when I get back, she may be gone. Get a ticket in the station, catch a dinner rumbo, well you know I had to leave you, but I don't wanna go. Get a ticket in the station, catch a dinner rumbo, well you know I had to leave you, but I don't wanna go. Get a ticket in the station, catch a dinner rumbo, well you know I had to leave you, but I don't wanna go. Get a ticket in the station, catch a dinner rumbo, well you know I had to leave you, but I don't wanna go. Get a ticket in the station, catch a dinner rumbo, well you know I had to leave you, but I don't wanna go. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu hai suonato con un sacco di gente, intanto con un sacco di italiani, perché un'armonica fa sempre comodo. Si è suonato con tanti, bravi, famosi, meno bravi, Branduardi, Bertoli, Celentano, Finardi, articolo 31, Mina, Shell Shapiro, eccetera, eccetera. Poi la mia spilla, il mio momento di grande commozione e orgoglio è il fatto che sono l'unico italiano che sono andato con il genere di Battimora, Frenzappa. Senti, raccontiamo invece la storia e chiudiamo anche la nostra intervista con la storia dell'incontro con questo musicista. Io, incidentalmente, qui sul tavolo tutti questi dischi, stavo appunto preparando una trasmissione su Michael Bloomfield, grande chitarrista, bianco, il più nero dei bianchi, possiamo forse definirlo così. Tu l'hai incontrato? Io l'ho incontrato, ho avuto anche la fortuna di aver suonato con lui due volte a Milano e a Torino e in occasione dei concerti di Torino è stato registrato anche un disco. Com'è andata? E' andata che mi ha visto e mi ha detto, ma tu sei un musicista. Io non è che, cioè, 35 anni fa ero diverso. Senza neanche la coda, non c'era mica la coda 30 anni fa. Non lo so, non mi ricordo, però ero un po' più scuro di Pizzo. Lui mi ha detto, ma tu suoni, sì, che cosa, l'armonica. Ci avrei giurato, mi ha detto. Allora ti va di stasera di suonare con me? Hai citato Paul Butterby, che è un mio beniamino da sempre. Ho la sua fotografia sul comodino. Anche Brividone. Brividone, dovevo fare un brano solo, alla fine ho suonato tutta la sera con lui. Sì, madonna. E con queste immagini di Fabio che suona con uno dei più grandi chitarristi della storia, e chiudiamo un attimo, chiudiamo questa puntata. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te, grazie Carlo. Come si dice, ho fatto la stessa domanda a Maial, però non mi ha risposto bene, ma il blues è un elisir di lunga vita? Di molto lunga vita, spero. Blues alle masse è il motto. Molte grazie a Fabio Travis, complimenti per i tuoi primi 40 anni. Allora chiudiamo come abbiamo iniziato. Vai, vai, tranquillo. Grande Fabio.